Ora, l'ultimo intervento prima della discussione è quello di Elisabetta Tamburrini. Elisabetta Tamburrini è la direttrice della biblioteca del Dipartimento di Filosofia della Sapienza. Ringraziamo anzi il professor Donatelli per aver dato la disponibilità a far partecipare il Dipartimento di Filosofia a questa nostra iniziativa. Abbiamo chiesto a Elisabetta di raccontarci un aspetto di queste tre riforme che può sembrare lontano ma in realtà è molto importante. Al momento della scomparsa di Giovanni Berlinguer la famiglia ha deciso di donare la biblioteca di Giovanni insieme a quella della moglie Giuliana alla Sapienza. Una biblioteca molto vasta, ricca, un patrimonio culturale di grande rilievo. Elisabetta insieme ad alcune colleghe stanno procedendo verso la sistemazione di questo fondo librario che sarà, lo è già un punto di riferimento per tutti i ricercatori, gli studiosi, che vorranno approcciare ad uno studio più accurato della figura di Giovanni Berlinguer ma anche di quel periodo storico e delle riforme di cui parliamo questa sera. Nello stesso tempo, visto che faccio il portavoce dei padroni di casa, presso la Fondazione Gramsci sono depositati gli archivi di Giovanni e di Giuliana Berlinguer quindi tutto il materiale archivistico si trova presso la Fondazione Gramsci perché anche qui si tratta di un patrimonio notevolissimo per chiunque voglia studiare, approfondire i temi che stiamo dibattendo questa sera. Quindi io adesso passo la parola a Elisabetta che ci racconterà questo fondo che è anche raccontare una storia di una persona attraverso i libri. Assolutamente. Come prima cosa vorrei ringraziare per essere stata invitata a partecipare alla presentazione di questo libro e soprattutto perché credo che sia importante pubblicizzare il fatto che i libri di Giovanni Berlinguer ma anche i libri di Giuliana che sono di un valore anche se è una tematica differente perché Giuliana Berlinguer era una regista per cui i testi che lei aveva conservato e aveva curato nel tempo sono anche testi soprattutto di cinema che noi avremo il piacere comunque di conservare e di mettere a disposizione ma lo scopo ovviamente io non posso entrare più di tanto se non come un cittadino che vorrebbe essere partecipativo come ha detto Fabrizio prima non posso partecipare al dibattito in merito però quello che i bibliotecari appunto sempre rivendicano è il fatto che loro si possano occupare dell'informazione soprattutto per mettere a disposizione della propria utenza di chi ne ha bisogno che siano giovani studenti, che siano ricercatori, che siano scienziati, che siano giornalisti e chiunque appunto abbia necessità di una risorsa informativa e per questo rivendico diciamo l'importanza di questo invito perché ci tengo moltissimo a comunicare che i testi di Giovanni Berlinguer che sono stati donati dalla famiglia subito dopo perché le prime comunicazioni sono della fine del 2015, inizio del 2016 quindi molto vicino alla sua scomparsa è stata sicuramente una grande risorsa per il patrimonio bibliografico e documentario della sapienza e noi siamo orgogliosi di conservarlo, siamo orgogliosi di averlo catalogato e quindi di averlo messo a disposizione perché ovviamente come per tutti i patrimoni librari se non vengono catalogati ovviamente sono nascosti e quindi non c'è la possibilità per un utente di venire a contatto con la notizia di quella risorsa i testi vi racconto brevemente quello che abbiamo fatto abbiamo diviso la biblioteca di Berlinguer tra i testi che lui conservava e che aveva accumulato nel tempo e che spaziano dalla politica della scienza alla storia della scienza alla filosofia della scienza, la filosofia morale, la bioetica ovviamente ma ci sono libri che trattano ovviamente della disciplina che lui insegnava quindi igiene, medicina del lavoro, parassitologia che erano una delle materie che lui studiò all'inizio della sua carriera ma in generale potete immaginare sono testi che offrono anche un'ampia possibilità di informarsi sulla politica che era dagli anni 60 agli anni 90, 2000 ma anche ovviamente erano i suoi libri privati quindi ci sono testi di narrativa e come vi dicevo anche di arte e poi nella parte prettamente di proprietà di Giuliana Berlinguer anche appunto di cinema e teatro i testi sono la cosa che noi abbiamo potuto vedere subito è che ci tenevano molto a questi testi e fatto sta che comunque l'organizzazione della biblioteca Berlinguer a casa Berlinguer era sicuramente lodevole quasi devo dire che ovviamente mi piacerebbe avere la mia così insomma anche se ovviamente sempre il ciabattino va con le scarpe rotte quindi chiaramente la mia biblioteca non sarà mai così organizzata la mia biblioteca personale però una cura, si vede una cura per i libri e quanto questi libri siano stati importanti per loro questo si vede dall'organizzazione e noi abbiamo tentato di nonostante i testi purtroppo dico purtroppo perché sono nel magazzino che non ha diretto accesso all'utenza ma è necessario comunque fare una richiesta per recuperarli quindi solo gli studiosi insomma che ci faranno richiesta potranno passeggiare insomma nel nostro magazzino per vedere poi fisicamente come l'aveva come l'aveva sistemata che immagino che possa essere anche di un valore per chi studia la personalità di Berlinguer invece per tutti gli altri ovviamente i testi sono catalogati per cui dal catalogo della sapienza è possibile verificare cosa ci sia e eventualmente richiederlo e prenderlo in prestito l'accordo che c'è stato con la famiglia è stato quello di mettere comunque i libri a disposizione la vecchia biblioteconomia voleva che i fondi librari soprattutto donati a meno che ovviamente ci siano delle cose di pregio da preservare però che non fossero dati in prestito perché il fondo librario doveva mantenere la sua integrità e quindi doveva rischiare il meno possibile di andare perduto perché ovviamente più i libri circolano e ci potrebbe essere la possibilità che qualcuno possa andare perso però se non circolano è perso tutto per quanto mi riguarda per cui tutti i libri del fondo Berlinguer tranne i periodici che comunque non vanno in prestito per la natura della loro pubblicazione e qualche libro antico che c'era e che quindi deve essere preservato vanno in prestito per cui questo è un invito per tutti quelli che hanno bisogno di venire e prendere i libri in prestito è anche un invito quindi vi dicevo i dinumeri ci sono circa adesso catalogati 10.000 volumi di cui ci sono catalogati 100 testi di Berlinguer quindi non di Berlinguer nel senso i suoi libri ma scritti da lui in italiano ma anche in spagnolo e in portoghese soprattutto e ci sono 550 suoi interventi o su periodici o su atti di convegno e questo sicuramente è una risorsa importante per chi studia tra l'altro sono stati organizzati secondo gli anni per cui chi vorrà approfondire la figura di Berlinguer attraverso i suoi scritti potrà trovare un percorso facilitato attraverso questa catalogazione per anno per cui si potrà vedere come l'evoluzione del pensiero e delle attività di Berlinguer non solo del pensiero perché cambiano nel corso degli anni per cui il mio è un invito un invito alla lettura dei suoi libri scritti da lui e da lui conservati perché credo che e soprattutto anche alla luce di quello che ho sentito dai illustri relatori che mi hanno preceduta possa essere utile per chi non ha avuto l'occasione di lavorare con lui di conoscere la sua persona che come l'onorevole Bindi l'ha definito un medico, un politico, uno scienziato e un militante che veramente sfido adesso a trovarne uno insomma che abbia queste quattro caratteristiche nello stesso tempo e un invito a conoscere le sue ricerche per cui anche per i giovani e soprattutto per i giovani e questo mi fa piacere e mi fa piacere anche perché era era nell'interesse della famiglia Berlinguer che aveva il desiderio proprio di mettere a disposizione dei giovani i testi dei propri genitori e sicuramente per quelli che devono affrontare i temi della salute i vecchi temi della salute i nuovi temi della salute troveranno un arricchimento nello studio di questa straordinaria figura di riformatore sempre riprendendo le parole di Rosi Bindi per cui credo che lo studio delle discipline delle culture politiche presenti nei suoi scritti potrà offrire una visione non retorica dell'uomo e della natura e dello spazio che occupa in questo mondo e per questo veramente sono molto riconoscente della possibilità di e spero che qualcuno che ci ascolti possa essere stato incuriosito dalla presenza di questo fondo e veramente di aspetto numerosi grazie grazie, grazie Elisabetta per averci raccontato Giovanni attraverso i suoi libri di questo si tratta quindi attraverso i libri quello che emerge è una figura abbiamo detto all'inizio un gigante un intellettuale a tutto tondo e anche questa scelta della famiglia di consentire a tutti un fondo libero aperto a cui tutti possono accedere è un terrore lascito nella direzione democratica e partecipativa di cui parlavamo prima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti